Un successo in lungo e largo per la manifestazione sportiva più importante della nostra isola. Circa 600 i partecipanti, tutti o quasi rigorosamente accompagnati da uno o due persone e c'è chi ha addirittura portato tutta la famiglia. Un giorno, un weekend, quattro giorni, una settimana di permanenza sulla nostra isola, chi più chi meno. Un movimento di circa 1500 persone giunto sull'isola in un momento morto per il turismo ischitano. Strade bloccate, auto quasi del tutto inesistenti e un'isola finalmente verde per davvero che non ha nulla a che vedere con quell'isola più grigia che vede quando il traffico ingombra le strade, soprattutto nei mesi estivi. Gli ischitani hanno risposto per la maggior parte positivamente alla manifestazione ed applaudono i partecipanti. Questa è stata Ischia 100. I nei ci sono e si può ancora migliorare in alcuni aspetti logistici, ma nel complesso l'organizzazione merita un diecipieno. E poco importa se i soliti brontoloni hanno alzato la voce. Contano i fatti, più giornate ecologiche, meno motori, più eventi, più turismo. Ischia ne ha bisogno. Ma veniamo alla gara. I ciclisti hanno cominciato a radunarsi ai piedi del Castello Aragonese a partire dalle 6.30. Tutti rigorosamente in maglia giallo fluorescente, caratteristica tipica di Ischia 100. Hanno riempito il pontile del castello andando a formare un manto giallo che evidenziava il simbolo della nostra isola. Il patron della manifestazione, l'avvocato Mario Santaroni, ha fatto ovviamente gli onori di casa, dando risalto anche alla presenza della pluricampionessa di windsurf Alessandra Sensini, oltre a Max Lelli e tanti altri ex ciclisti, professionisti e figure importanti del ciclismo nazionale. Poi la parola è passata al vice sindaco di Ischia, Elzo Ferrandino, e alla benedizione di Don Carlo Candido. Prima della partenza, un minuto di silenzio in ricordo della piccola Marianna, che l'anno scorso fu investita sulle strisce pedonali in pieno centro a Ischia, alla vigilia della seconda edizione della Gran Fondo. Con circa 15 minuti di ritardo è stato finalmente dato il via e in massa i quasi 600 partecipanti hanno effettuato un doppio giro cittadino circolando per il centro di Ischia. La gara è partita ufficialmente dai pilastri dove i cartelloni indicavano il chilometro zero. Le condizioni meteo perfette hanno poi reso speciale la giornata. Nei 70 chilometri ha trionfato Bruno Chiocca del team Daniello Bike in un'ora 42 primi e 51 secondi. Dietro di lui se ne sono date di santa ragione fino alla fine Mauro Coppola, secondo per 1,44 e 12, e Adriano Luciano, terzo con un'ora 44 primi e 13 secondi. Nei 100 chilometri ha stravinto Roberto Cesaro del team Pedale Bellonese, che ha chiuso in due ore 36 primi e 17 secondi, battendo così anche il tempo di Michele Scotto, che nella seconda edizione terminò in poco più di tre ore. Insieme a Cesaro sul podio sono saliti Diego Costa due ore 36 e 31 e Onofrio Monzillo due ore 36 primi e 40 secondi.